Sono Sonia Lattari, sono stata uccisa da mio marito per una lite. Sono Melania Rea, uccisa da mio marito che diceva di amarmi. Sono Fatima Bamali, brutalmente uccisa da mio marito senza motivo. Sono Teresa Bonocore, uccisa perché ho denunciato alcuni abusi. Sono Giuseppina De Luca, uccisa dal mio marito dal quale mi ero appena separata. Mi chiamo Malala e hanno provato ad uccidermi per togliermi il diritto all'istruzione. Sono Piera Napoli, uccisa perché mi ero innamorata di un altro uomo. Sono Chiara Qualsetti, uccisa a coltellate da un uomo che consideravo amico. Sono Lorena Quaranta e sono stata uccisa dal mio fidanzato con cui vivevo. Iole ma che ti è successo? Tu stai piangendo! E' vero ma che cosa? Niente ragazzi. Non ne vuole parlare. Ma che devo dire? E' sempre la stessa storia. Il mio ragazzo dice che non devo uscire con voi e mi controlla sempre il cellulare. Sono stupida, non ce la faccio più. Ma non può fare questo! Lascialo! Se non ti lascia libera non ti amo. E' vero ma come è meglio gli occhiali se sta piovendo? No niente. Dai dimmelo. Iole perché li tieni? Ma che è successo? Francesco ha continuato. Iole devi avere il coraggio di denunciarlo, non può essere sempre colpa nostra. Non è colpa mia. Non è colpa mia. Non è colpa mia. non è colpa mia non è colpa mia non è colpa mia non è colpa mia non è colpa mia